Eccoci con Valentina Voltolini, siamo allo stand del Consorzio Vini Trentini, che Valentina Voltolini è la responsabile sia per quanto riguarda i vini sia per quanto riguarda la grappa che è un altro prodotto di eccellenza per quanto concerne il Trentino. Ecco, la vostra presenza qui al Vini Italy è una presenza storica, in che cosa si estrinseca principalmente? Quali sono i temi che in questa edizione vi preme maggiormente sottolineare? Come hai detto tu, è proprio una presenza storica, infatti il Trentino si rappresenta al Padiglione 3, dove appunto siamo, con 42 aziende, grandi e piccoli produttori, cooperative e non. Il tema fondamentale di questa edizione è fondamentalmente uno, la sostenibilità, sostenibilità in cui il Consorzio crede e sta portando avanti un grande progetto, quale il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, infatti siamo il primo Consorzio a livello nazionale che si può freggiare di aver presentato il bilancio di sostenibilità due anni fa. Quest'anno lo ripresenteremo, presenteremo la seconda edizione, quindi l'accompagnamento che il Consorzio sta facendo per produttori e viticoltori, che sono 7000 in Trentino, sono proprio quelli sulla sostenibilità e quindi la difformazione e diciamo cultura nei confronti del terreno, della vigna, ma soprattutto del consumatore. Anche perché ovviamente chi viene in Trentino viene per apprezzare i prodotti vino, la grappa, i prodotti della gastronomia, ma per vivere un territorio intero e questi prodotti che abbiamo appena citato contribuiscono enormemente al discorso di fusione turistica, per i cosiddetti wine lower, no? Assolutamente, come io dico sempre, si comunica un prodotto quale il vino, quale la grappa, ma soprattutto si comunica un territorio quale il Trentino, un territorio salubre e salutare. Grazie e buon vino Italy. Grazie a voi.